Ben trovati all'appuntamento con diritto e rovescio la nostra rubrica settimanale di approfondimento siamo giunti alla ottava puntata di questo nostro quattordicesimo anno di trasmissioni oggi ci occupiamo della campagna aolearia 2014 che da poco ha preso il via come sempre i nostri agricoltori insieme alle olive stanno raccogliendo il frutto di un intero anno di lavoro devono però fare i conti naturalmente con la quantità e la qualità del prodotto con il sistema dei prezzi, con il nuovo sistema di contributi europei ma anche con la concorrenza non sempre leale dei produttori di altri paesi che appunto producono olio e olive noi quest'oggi cercheremo con l'aiuto di alcuni graditissimi ospiti di fare un po' il punto della situazione, di capire il perché il prezzo per esempio dell'olio sembra essere salito sull'ottovolante con picchi improvvisi e cadute repentine ma anche cercheremo di capire come difenderci dalle sofisticazioni del prodotto che oltre ad essere una pratica economica scorretta possono anche mettere a rischio la salute dei consumatori cercheremo anche di capire soprattutto che tipo di olio accompagnerà i nostri piatti nel prossimo futuro lo faremo con alcuni graditissimi ospiti che vado subito a presentare, salutare e ringraziare a cominciare da Franco Guglielmi che è il presidente della Soproli Provinciale ma è anche presidente dei tre campanili di Andria Grazie e ben trovato Al suo fianco Donato Rossi, presidente della Federazione Olivicola Nazionale aderente a Confagricoltura Ben trovato e grazie Ringraziamo anche Elia Pellegrino, vicepresidente nazionale dell'Associazione Frantoiani aderente all'Aifo Ben trovato Ringraziamo il conte Onofrio Spagnoletti Zeuli che è un imprenditore proprio del settore agroalimentare che ringraziamo per essere con noi quest'oggi Grazie anche a Benedetto Miscioscia, assessore alle attività produttive del Comune di Andria ma quest'oggi soprattutto nella veste di vicepresidente nazionale delle città dell'Olio Buongiorno Ben trovato Infine ringraziamo, ma non da ultimo, Roberto Altini che è un ispettore dell'ispettorato centrale della qualità e della repressione delle frodi nel settore agroalimentare grazie per essere con noi La prima domanda va inevitabilmente all'assessore alle attività produttive del Comune di Andria che è anche un esperto del settore Che campagna olearia stiamo vivendo in questi giorni? Abbiamo notizie quotidianamente allarmanti il prezzo è troppo alto, il prezzo poi scende troppo le olive ce ne sono poche, l'olio da paesi esteri che continua ad arrivare ma ne dovrebbe avere meno che in Italia qual è la situazione reale? Diciamo che quest'anno è una particolare annata una particolare annata sotto i profili dell'anomalia ma questo è determinato dal fattore diciamo climatico e soprattutto per un certo verso fitopatologico perché abbiamo verificato a livello nazionale un calo notevole della produzione sotto il profilo quantitativo e sotto il profilo qualitativo questo sicuramente ha generato tutto un problema che lascio immaginare soprattutto per quelle regioni che hanno una loro particolare vocazione dal punto di vista produttivo e che hanno trovato delle enormi difficoltà queste difficoltà chiaramente hanno cercato di sopperire in questa fase anche ricorrendo alla possibilità di poter avere olive da territori che magari non avevano e non hanno particolari problemi guarda caso quello del nord barese e Anzia in particolare tutto questo ha scatenato una corsa anomala io la definisco anomala perché basta considerare che noi produciamo una particolare varietà che è la coratina che solitamente è una delle varietà più tardive nel panorama produttivo nazionale e vedere tanta gente diciamo adoperarsi per andare a raccogliere olive in un periodo che non è quello congeniale anche sotto il profilo delle rese dal punto di vista produttivo chiaramente diciamo ha determinato questa corsa una corsa che è stata favorita dal fatto che c'è una richiesta perché queste olive sicuramente sono servite per poter diciamo dare una possibilità in più quindi quest'anno invece di vendere olio stiamo già vendendo le olive e questo forse è il problema più serio e qui credo che dovrebbe un po' intervenire un po' il buon senso ma io mi rendo conto che spesso il produttore magari allettato dal fatto che c'è questa possibilità di toccare il cielo con il dito perché il prezzo delle olive ha avuto questo sbalzo notevole ma si sapeva anche che questo sbalzo in alto ecco per chi non ha seguito che non conosce le dinamiche possiamo fare un raffronto lo scorso anno di questi tempi a che prezzo andava l'olio? ma le olive andavano intorno alle 50 45-50 euro quest'anno siamo? e quest'anno siamo arrivati a 100 ma attualmente siamo fermi intorno alle 80 ma come dire tutto è determinato da momenti di domanda offerta momenti anche legati diciamolo pure a quello che è l'effettiva diciamo possibilità di avere rendimento in olio noi stiamo verificando le rese non è che siano rese alte fino a qualche giorno fa avevamo rese medie di 13-14% non di più quindi questo sicuramente 13-14% significa che su ogni 100 kg su un quintale e su 100 kg di olive noi avremo 13-14 kg di olio 14 kg di olio esattamente ma quindi i produttori chiedo proprio direttamente al conte spagnoletti zeuli i produttori preferiscono a questo punto non rischiare di arrivare alla produzione e poi non sapere a chi vendere l'olio vendono direttamente le olive? ma secondo me questo è un errore un errore grosso perché in quest'anno perché noi viviamo come giustamente si diceva sulle disgrazie altrui io mi ricordo nella mia vita abbastanza lunga di imprenditore olivicolo e imprenditore agricolo che abbiamo avuto altre due annate particolari mi ricordo particolarmente quella del 94 quando riuscimmo a riportare l'olio tra le 800 e il milione perché c'era la benedetta lira in quel momento lì e sempre sulle disgrazie degli altri paesi o degli altri quest'anno appunto abbiamo una Spagna che ha grossi problemi di produzione di qualità eccetera abbiamo forse una Grecia ma che mi dicono che non ha una qualità molto buona forse la Tunisia il resto in Italia non c'è assolutamente niente quindi le olive erano qui e io quest'anno sulle disgrazie altrui avrei mi sarei augurato che le olive fossero rimaste qui cioè il vendere ancora le olive agli angoli delle strade è secondo me un sistema da terzo mondo in Marocco forse non si fa anzi perché in Marocco sono molto ben organizzati quindi bisognava tenersi il prodotto e una volta tanto dettare legge perché con una massa critica perché poi la massa critica è il prodotto buono e qui nella zona diciamo di Andria che è il centro che produce più dell'Umbria e quasi qualcosina meno della Toscana quindi se noi avessimo tenuto il prodotto qui forse avremmo potuto perché in Toscana se lo vendono tranquillamente tra le 13 e le 15 e noi stiamo a dire beh vabbè ci è andata a 9 euro il chilo quindi avremmo potuto fare una bella politica finalmente per rafforzare questa nostra produzione che è sempre stata di alta qualità ma che molto spesso non è conosciuta quindi questo è stato secondo me un grave errore le rese di 13 e 14 sono dovute appunto a una abbiamo cominciato molto presto ma a una temperatura che non ci favorisce assolutamente perché le piante sono in vegetazione non credo che miglioreremo queste rese perlomeno per ora se continuiamo ma credo che tra un po' le olive di Andria finiscono perché sono partita in grandissima quantità ecco questo significa che i nostri produttori in realtà sono in difficoltà perché preferire di vendersi l'uovo oggi piuttosto che attendere la gallina di domani significa è meglio che cerchiamo di recuperare perché le spese nel corso dell'anno sono state tantissime tasse comprese e adesso bisogna cercare di remunerare appunto lo sforzo fatto ecco l'associazione nazionale dei frantoiani ecco qual è la situazione che state riscontrando con i vari operatori bene nel nord barese c'è sempre stata una strana consuetudine che è quella di vendere le olive per destinazione fuori provincia cosa che altrettanto si immagini se per noi non è la cosa più sbagliata perché noi abbiamo fatto degli investimenti sul territorio rinnoviamo i nostri frantoi siamo un marchio di qualità che va difeso abbiamo le potenzialità per trasformare una produzione per garantire una qualità le aziende sono certificate con certificazioni di qualità anche con standard europei di altissimo livello quindi noi soffriamo questa competizione con altri territori che hanno opportunità anche più significative rispetto alle nostre quotazioni medie nobilitando degli oli che poi insomma trovano spazi anche sugli scaffali della grande distribuzione a quotazioni ben più alte ma ancora più strano è che solo con il prodotto agricolo olive il produttore esige un pagamento immediato talvolta allo stesso giorno che viene a scaricare cosa che non succede con l'uva con le cantine in grande difficoltà pagamenti lenti tanto più col grano che è consuetudine mettere a deposito e aspettare mesi e mesi e mesi per poter portare a casa il risultato arrivano le olive arriva la fine dell'anno il produttore deve pagare il conto del gasolio il conto dei concimi il conto della farmacia agricola le tasse e quant'altro dalla produzione olivicola bisogna pagare i conti le altre produzioni possono attendere questo è un sistema sbagliato perché è un sistema che è molto radicato nella nostra area e non è così per esempio nell'area nord della Daunia non è così nel Tarantino nel sud-est barese nel Brindisino dove quantomeno si arriva a una determinazione di conteggi su base settimanale se non mensile se non addirittura di fine campagna per poter ipotizzare un prezzo medio e essere poi pagati il relativo prodotto altresì in un'annata come questa convengo assolutamente che sarebbe stato opportuno frangere il prodotto copartecipare in filiera per il produttore insieme al Frantoiano ognuno per il proprio nell'attesa di un mercato che secondo le mie visioni ma secondo anche quello che lei appunto diciamo preannunciava in premessa è fatto con sta avendo un'altalena paurosa di quotazioni e di oscillazioni l'olio è poco in tutto il mondo c'è un calo di produzione mondiale del 20% ci sono dei consumi in aumento per via anche dei paesi emergenti vero è che ci sono delle quotazioni più alte ma io sono convinto che essendo questo un territorio che tra i pochissimi sta esprimendo le solite qualità quindi parliamo di dati analitici tra i più bassi in Italia gli unici in Italia a poter garantire 0,15 4 diperossidi polifenoli sempre alle stelle questo olio troverà spazio comunque o per migliorare provenienze italiane rovinate dai problemi fitopatologici oppure per andare direttamente in bottiglia come prodotto 100% italiano che comunque se in Italia in grande distribuzione magari a certe quotazioni potrebbero non trovare spazio ma sicuramente c'è un mercato mondiale c'è un mercato mondiale di qualità che non ha difficoltà a pagare determinate cifre questo significa presidente Donato Rossi della Federazione Olivicola Nazionale Confagricoltura che è un'occasione persa o c'è ancora tempo per rimediare per i nostri produttori qui in termini molto chiari è il territorio che ci rimette e ci rimette in termini diciamo di immagine perché è chiaro che è un'immagine che viene permutata viene svilita rispetto a quelli che sono i contenuti salienti di un grande prodotto ma di una grande tradizione qui abbiamo chi fa impresa da secoli è presente sul territorio quindi può raccontarci davvero ciò che è accaduto e ciò che è successo e ciò che l'olivicoltura di qualità di Puglia ha rappresentato per tanto tempo quindi diciamo che io vedo fortemente compromesso questo aspetto e poi chiaramente è chiaro il prodotto che è andato via in cisterna è andato via perché le olive sono state vendute cedute in maniera in maniera così poco poco accorta poco attenta con il piacere da parte dei produttori di realizzare subito e in quantità tutto sommato cospicua perché 80 euro 85 euro comunque rappresentano un incremento doppio rispetto allo scorso anno un incremento che dà una certa tranquillità all'imprenditore dà una certa risposta ripaga il lavoro ripaga una serie di cose e quindi è chiaro che tutto questo è arrivato su un territorio che probabilmente non solo non era preparato ma non aveva la mentalità giusta a poter fare un determinato discorso di cartello che forse andava fatto e formalizzato e individuato prima con attenzione e qui io dico che probabilmente noi paghiamo lo scotto di un frazionamento agricolo che è fortemente presente ma facendo un minimo di autocritica anche le associazioni di categoria non hanno funzionato ma guardi le associazioni di categoria qui tutti gli errori sono quelli che sono le associazioni di categoria le ricordo che le associazioni di categoria sono fatte dai produttori quindi è chiaro che probabilmente sono mancate di passaggi delle iniziative che andavano promosse in maniera opportuna prevedendo lei diceva prima è mancata la fase del cartello il cartello solo voi probabilmente riuscivate a fare la fase del cartello andava fatta insieme alle cooperative il sistema cooperativistico che qui da noi non sempre risponde in maniera adeguata nel senso che la cooperativa c'è quando le olive hanno il prezzo basso quando le olive hanno un mercato un mercato che è remunerante rispetto agli standard tradizionali della cooperativa ce ne se ne dimentica i problemi sono del presidente che deve affrontare i costi e le spese e curare tutto il resto degli aspetti i contratti e tutto quanto gli investimenti la programmazione chiarissimo il presidente Guglielmi già sorride ma è un sorriso amaro beh in effetti come dicevano gli amici voglio dire entriamo più nello specifico in effetti voglio dire abbiamo perso una grande occasione quest'anno perché questi segnali noi li sapevamo già da tempo cioè il fatto che era un'annata particolare con mancanza di prodotto sia all'estero che in Italia dovuto a cosa perché poi proprio un calo di produzione la Spagna mediamente fa intorno ai 15 milioni di quintali di olio quest'anno per condizioni climatiche anche loro con problemi climatici quest'anno ne farà 6-7 milioni di quintali noi veniamo da meno della metà meno della metà l'Italia viene negli ultimi anni di grandi annate di produzione e quest'anno abbiamo una riduzione già per quella che è la produzione inferiore diciamo i cosiddetti anni di scarica in più quest'anno c'era il problema climatico che ha determinato l'attacco della mosca e quindi questi segnali li sapevamo tutti di mancanza di prodotti ed è chiaro che noi io lo dico per me come presidente di cooperative come presidente di associazioni noi questo l'abbiamo detto l'abbiamo manifestato l'abbiamo in tutte le occasioni e quindi noi volevamo che effettivamente questo prodotto veniva raccolto e trasformato nelle nostre zone e il fatto di vendere le olive noi siamo sempre contrari noi non condividiamo questa vendita che avviene attraverso questi stoccaggi che stanno in queste città questi fanno solo negativo al valore di questo prodotto sembra di essere tornato all'inizio del novecento quando i camion di olio e di uva soprattutto io dico questo noi l'abbiamo l'abbiamo anche voglio dire l'abbiamo anche denunciato siccome noi siamo voglio dire strutture che sono controllate sono voglio dire abbiamo rispettiamo determinate cose noi abbiamo anche manifestato la volontà di capire se queste strutture sono idonee voglio dire a poter soddisfare questo tipo di lavoro il che andava verificato ma poi entrando sempre di più nello specifico il danno che noi ci stiamo facendo in questo periodo è che vedrete tra qualche mese tra qualche mese che le produzioni pur sapendo di una stima inferiore alla chiusura della campagna siccome noi abbiamo un registro di carico e scarico che si chiama Sian che si chiama Sian andremo a vedere che nelle varie zone avremo delle produzioni se pur minima avremo delle produzioni in maniera superiore rispetto a quelle che erano le provisioni e quindi che cosa succede questo? Perché questo avviene? Perché noi alimentiamo perché questo? Perché le olive comprate in questo territorio finiscono e portate negli altri frantoi e con le rese che noi stavamo io lo voglio dire signori perché se no qua non c'è l'ispettore che ascolta e io sto per arrivare l'ispettore non potrà dirlo però se no 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 infatti adesso adesso ci arriviamo perché lì non è un caso che siamo partiti da lì per ritornare c'è proprio un fondo fateci no no un fondo è proprio la verità è un serio problema io dico io dico ecco perché l'occasione è mancata perché poi le guardiamo sia dall'aspetto voglio dire proprio dall'aspetto tecnico e sia dall'aspetto promozionale Franco scusa ci diamo del tu perché ci conosciamo da talmente tanti anni che è impossibile riuscire a darti del lei non ce la faccio non ce la faccio ecco ma spieghiamo per bene chi è a casa che non conosce queste dinamiche spieghiamo è molto semplice è molto semplice le olive vengono vendute a questi stoccaggi a questi diciamo magazzini vengono chiamati nel territorio centri di raccolta perfettamente centri di raccolta che possono esistere per carità ma devono avere avere determinate caratteristiche e questi centri di raccolta prendono le olive e le vendono agli altri frantoiani possono essere frantoiani del loco ma come possono essere frantoiani di tutta l'Italia lì dove c'è la richiesta e questo voglio dire in un territorio come Andria ecco ma come fanno questo poi a diventare prodotto di un'altra zona e qui c'è la e allora blocco un attimo Franco per andare all'ispettorato perché il vero problema poi alla fine diventano i controlli perché se tutti facessero regolarmente il loro lavoro questo problema non ci sarebbe non avremmo il problema della sofisticazione non avremmo il problema della salute dei consumatori invece quando qualcosa si inceppa quando c'è un meccanismo nel quale si immette un comportamento truffaldino tra virgolette naturalmente si crea poi la necessità della vostra presenza e del vostro intervento qual è la situazione ad oggi? Beh la situazione ad oggi è che è un'annata l'abbiamo detto e ripetuto è un'annata assolutamente eccezionale da tutti i punti di vista perché questo decremento produttivo ha fatto sì che i prezzi schizzassero e ovviamente schizzando i prezzi dovremmo intervenire anche noi perché è inutile nasconderlo il rischio di frode è elevato quando si verificano queste congiunture economiche soprattutto quindi i controlli noi li stiamo realizzando li abbiamo sempre fatti a dire la verità e a tutti i livelli della filiera incominciando anche dai commercianti di olive per andare ai frantoiani per andare alla grande distribuzione per andare alla raffineria e agli imbottigliatori insomma a tutti i livelli vengono effettuati i controlli questo particolare fenomeno che si è effettivamente verificato anche quello lo stiamo affrontando chiedendo ai colleghi di altre regioni di appurare per l'appunto di verificare che fine poi facciano le olive ossia qual è il rischio di frode nel caso e che poi non diventi olio DOP del Umbro o Toscano o delle regioni che hanno anaccaparrato queste olive quindi noi adesso non posso ovviamente sbilanciare più l'ità però possiamo garantire che a tutti i livelli anche su strada vengono fatti i controlli in collaborazione con la polizia di Stacola stradale quindi stiamo cercando in tutti i modi di intervenire per capire ovviamente il fenomeno torneremo a questo problema però io chiamerei in causa Elia Pellegrino perché voi in aziende nelle aziende avete dei registri della documentazione che forse anche per loro poi è semplice riuscire a capire cioè se avete una resa del 14% e poi alla fine dell'anno invece si va a vedere che ne avete venduto il 20% insomma c'è un 6% che da qualche parte deve essere arrivato questo fa parte di un un ulteriore problema quindi se quello appena enunciato era relativo alle olive che possano essere nobilitate in altri territori quello della superresa definito così invece va a creare una falsa quantità che attesti produzioni nazionali inesistenti perché c'è questo interesse c'è un mercato c'è un mercato e c'è una connivenza che in riunioni istituzionali con il collega che mi ha appena preceduto abbiamo affrontato ieri in prefettura io ho denunciato addirittura che c'è il rischio che anche la malavita organizzata in considerazione di questi facili guadagni e di grande quantità possa trovare interesse nell'investire moneta e ripulire eventualmente dei capitali di provenienza illecita cosa succede gliela faccio breve lei ha detto una produzione media del 14% poi il frantoiano invece del 14% va a iscrivere sul suo registro 20% di resa ottiene 6 kg di olio inesistente ma c'è una filiera che poi recupera questo prodotto importando oli esteri nobilita questi oli esteri con provenienza italiana il tutto con la complicità delle cosiddette cartiere benissimo le carte che ahimè sono un rischio serissimo specie e ancora di più in una campagna come questa quando si parlava di stime il presidente dei tre campanili ragionava in termini di stime produttive noi l'anno scorso abbiamo avuto una produzione di 330.000 tonnellate Italia dove però le faccio presente che nel mese di marzo sono state portate macinate olive per delle quantità assurde in Italia marzo solo nella zona dove si produce il biancardo in Liguria ma che produce 80 quintali di olio le do questo dato si producono gli oli di marzo gli oli marzaioli ma perché è di alta montagna parliamo invece quasi del 20% della produzione dell'anno scorso è stata realizzata stranamente a marzo sono convinto come dice il presidente che anche quest'anno su una stima che secondo me è abbondante di 100.000 tonnellate noi raddoppieremo quantomeno il dato se non arrivando più o meno alle 300 questo fa parte di un altissimo rischio dove sì il famoso cartello come si diceva un'idea di ipotizzare una miglior un'ottimizzazione della proposizione di questo prodotto poteva trovare assolutamente dei vantaggi ma se siamo poi minati e noi stessi siamo i primi artefici che ci diamo la zappa sui piedi andando a proporre delle produzioni inesistenti tutto questo non porterà mai alla crescita né del valore né tanto più della provenienza dell'olio del nord barese ecco qui ci porta inevitabilmente a due considerazioni che propongo direttamente a Roberto Altini per l'ispettorato e a Benedetto Mishosha per quanto riguarda le città dell'olio il primo aspetto è quello se arriva prodotto dai altri paesi che non sono comunitari più delle volte o attraverso la Spagna che è un paese comunitario e poi diventa prodotto italiano si pone un problema anche di salute dei consumatori più che è un problema di salute è un problema di frode quindi è un fatto economico sì assolutamente parliamo di frode in commercio anzi il fatto che c'è l'aggravante perché spacciare un olio italiano per italiano che italiano non è insomma questo ovviamente l'ede e il diritto del cittadino consumatore è ovvio che anche questi fatti sono stati pure acclarati oggetto di indagine recentemente anche abbiamo avuto anche l'appoggio della procura della Repubblica di Trani sono stati fatti interventi in questo senso ricordiamo una quindicina di arresti anche sì sono stati 16 arresti e 16 sequestri di tutti degli stabilimenti oleari è ovvio che noi ci proiettiamo pure in avanti perché sono spunti di riflessione spunti investigativi molto interessanti quello che diceva il presidente dell'Aifo perché è ovvio che se la resa media in un determinato territorio è 13 e noi vediamo dai registri telematici Sian perché anche questi ci vengono in soccorso magari spieghiamo pure cosa brevemente che cosa consiste perché per fortuna adesso c'è una telematizzazione di tutti i dati di tutte le registrazioni e a tutti i livelli della filiera parliamo di olive parliamo di olio prodotto di olio che viene imbottigliato quindi noi anche in ufficio possiamo renderci conto di che cosa fa effettivamente un'azienda e quindi nel caso specifico dei frantoi possiamo vedere se il frantoio X sapendo la resa media di 13 questo frantoio ha una resa miracolosa di 20 per noi scatta il campanellino dall'arma è ovvio è ovvio questo però questi sono spunti investigativi e bisogna approfondire cioè dobbiamo pure dire un fatto abbastanza semplice siccome siamo in uno stato di diritto non è che automaticamente siccome la resa è 20 noi denunciamo no dobbiamo anche portare all'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa le fonti di prova che possano avvalorare un eventuale diciamo che solo diamo per acquisito esatto esatto è ovvio che tutte queste cose si benvengano queste diciamo queste spunti di riflessione per noi molto importanti da parte del mondo produttivo che ci viene a dire queste cose anzi noi siamo ben lieti quando vengono in ufficio a raccontarci queste cose perché noi ovviamente poi abbiamo elementi concreti sui quali agire tipo il fatto delle olive che vengono raccolte a marzo ovviamente in questa zona tranne in alcune zone possiamo anche dirlo del ma sono annate del tutto eccezionale il sud barese accade pure ma parliamo di olio lampante ovviamente se qualcuno dovesse fare extravergine beh e allora si lavora si lavora l'altro aspetto è quello del danno d'immagine perché voi associazioni ma anche le città per esempio Andrea in prima fila rispetto a quelle che sono state le recenti ma soprattutto anche in termini di investimento nella comunicazione per difendere questo prodotto della nostra terra che è un'eccellenza che ci viene riconosciuta da tutto il mondo e poi si verificano cose di questo tipo anche il fatto stesso di non imbottigliare in quest'area significa svilire poi il prodotto esattamente no volevo intanto precisare quando si parla di danno d'immagine Anzia recentemente purtroppo ha subito diciamo un'onda non proprio positiva ma determinato anche dal fatto che forse molto spesso la comunicazione diciamo va un po' a modificare quello che è lo stato reale in questo caso delle indagini portate avanti dalla repressione insieme alla procura e agli organi inquirenti per esempio dei produttori e degli stabiliti di Andria voglio dire non ne parliamo parliamo di alcuni commercianti diciamo quando parliamo di impianti o di attività coinvolte parliamo di altre realtà che non riguardano Andria riguardano la Calabria e riguardano un'altra zona della Puglia quindi giusto per dare un'idea perché molto spesso il messaggio poi arriva in maniera distorta ma più che in maniera distorta il messaggio è il problema perché l'idea è per esempio ad Andria hanno chiuso 16 aziende che producono olio insomma ed è stato questo più o meno ma non è così Andria purtroppo ha avuto questo tipo di diciamo di ritorno mediatico però è devo dire che Andria rappresenta per il territorio regionale e nazionale una delle poche realtà dove si fa olio di qualità e non a caso è uno dei pochi territori depredati perché quando parliamo di vendita di olive parliamo di territori depredati ma è purtroppo un problema che scontiamo da tempo perché se pensiamo che siamo la prima regione in Italia a produrre olio secondo i dati AGEA non tanto quelli dell'Istat noi praticamente produciamo oltre il 50% dell'olio nazionale e sapere che la regione Puglia è tra le ultime regioni a confezionare e commercializzare questo chiaramente rende un po' l'idea negativa di quella che dovrebbe essere la capacità di un sistema produttivo di creare quella filiera attraverso la quale tu puoi andare a determinare come dire un condizionamento sul mercato attraverso il tuo prodotto noi scontiamo anche il fatto che fino a poco tempo fa diciamo il nostro olio e parliamo in particolare di una varietà che è la coratina che all'esterno è stata sempre percepita come un olio che aveva dei difetti perché il pizzicore è stato sempre scambiato per acidità per qualcos'altro noi abbiamo cercato e stiamo cercando di sviluppare in questi anni una strategia di informazione di marketing che porta proprio ad evidenziare che il pizzicore l'amaro in particolare non è un difetto ma è un pregio e dà praticamente l'idea esatta di avere a che fare con un prodotto che ha una sua originalità e quindi lavorare su questo per noi è importante ma è anche vero che scontiamo un difetto un difetto legato alla mancata capacità da parte dei nostri produttori di far sistema ma devo dire anche che forse ci sono delle pecche che scontiamo a livello generale politico perché io dico sempre una regione come la Puglia non può non avere attenzione a sviluppare un piano olivicolo che consenta di mettere in campo delle strategie che partino dalla valorizzazione di quelle che sono le eccellenze produttive al Gargano e ce ne abbiamo a creare poi quel sistema che è quello di riuscire a combinare i produttori con i confezionatori e quindi garantire quella capacità di arrivare su un mercato con un prodotto finito che sia espressione di un'identità territoriale perché se non sviluppiamo questo concetto noi ci ritroveremo l'anno prossimo a ridiscutere le stesse cose anzi l'anno prossimo ci ritroveremo a discutere il fatto che le olive non si vendono perché la prima cosa che ti vengono a dire quando questi giorni è calato il prezzo personalmente ho avuto chiamate da produttori che dicevano assessore come è calato il prezzo delle olive e io gli ho detto ma tu cosa pensavi che le olive continuassero a salire non è così io credo che nel nostro sistema dobbiamo creare un equilibrio e un equilibrio è quello che diceva anche il conte Spagnoletti l'hanno detto anche gli altri colleghi cioè il problema è che dobbiamo creare una sorta di equilibrio per fidelizzare il nostro prodotto con la parte diciamo legata al consumo e questo diventa importante perché se riusciamo a creare quell'equilibrio noi sapremmo che il prezzo dell'olio viene riconosciuto per quello che è noi siamo anche coscienti che siamo una realtà che produce tantissimo olio non siamo la Toscana dove sicuramente il fatto che c'è una domanda ed un'offerta che non è combinata porta ad elevare ancora di più il prezzo ma è anche vero che abbiamo un olio di qualità e quindi dobbiamo lavorare su questo perché creando questo equilibrio eviteremo o eviteremmo di creare un altro fenomeno cioè l'eccessivo rialzo del prezzo potrebbe generare al contrario una corsa a comprare oli che non siano di qualità e oli diversi da quelli che possono essere l'olio spiegliato ma il consumatore che sta guardando la trasmissione la prima domanda che si sta ponendo indubbiamente in questo momento è ma quanto sarò costretto a pagare l'anno prossimo o meglio tra qualche settimana l'olio nuovo perché noi diciamo che all'inizio di dicembre già comincia la caccia all'olio nuovo e bisogna poi fare i conti su quanto verrà a costare la damigianetta di 5 litri ecco che tipo di prezzi dovremmo aspettarci? prima di tutto ormai credo che a dicembre finiremo quest'anno la campagna olivicola perché siamo partiti talmente presto mentre una volta si raccoglieva dall'Immacolata in poi come una volta ritorno al discorso di Andria Andria una volta negli anni 60 era famosa perché bastava una minima percentuale quando c'erano le grandi industriali dell'olio i costa eccetera compravano c'erano i grandi mediatori compravano ad Andria perché una piccola percentuale dell'olio di Andria serviva a modificare e migliorare tutti gli altri oli perché l'olio della coratina ecco lo confondevano la storia del pisicore perché lo tagliavano con gli altri oli e noi ci siamo cullati in quegli anni su questa questione perché vendevamo l'olio nostro per migliorare tutti gli oli e quindi non abbiamo pensato a fare il passaggio successivo che era quello di ricorrere di arrivare al consumatore finale io non sono per niente d'accordo su questi prezzi su questa specie di borsa sembra Wall Street qua questi prezzi esagerati fanno malissimo io come altri che vanno sul mercato io ho grandissime difficoltà io sto vendendo a sotto costo rispetto al mercato il mio prodotto perché se ho i contratti con la grande distribuzione cosa posso fare posso aumentare il 30% e che faccio poi esco dalla grande distribuzione perché quest'anno mi è andata bene per poi che cosa fare poi correre dove quando rivedremo l'olio sotto i 3 euro purtroppo e quindi il consumatore ha ragionissimo anche perché siamo in un momento di difficoltà signori miei qua la gente non arriva a fine mese quindi quest'olio che arriva a cosa chi lo comprerà si andranno su altri oli su altri grassi e quindi questo è un gravissimo danno secondo me quindi sarebbe stato giusto e qui vorrei collegarmi a un altro problema cioè se noi avessimo un prezzo remunerativo che fa sì che le imprese possono avere un profitto per rinvestire e occupare perché noi parliamo poco dell'occupazione ma l'olivicoltura di Andria vuol dire l'industria di Andria a cielo aperto che vuol dire occupazione e se non c'è l'occupazione come in questo periodo io sono seriamente preoccupato ecco i furti ecco tutte queste cose perché stiamo raccogliendo perché la gente sta sotto gli alberi a controllare le olive perché il giorno dopo o cadono per il vento o per via delle mosche eccetera vengono rubate per cui è questo il problema essenziale l'occupazione l'occupazione perché se come ha detto anche il nostro Papa dà dignità all'uomo quindi questa è la nostra mission ma la nostra mission poi ci viene tagliata perché noi un prezzo di 6 euro secondo me tra i 6 e i 7 euro dovremmo essere felici contenti e non aspettare al litro al consumatore al litro al litro sì insomma tra il litro 6 euro prezzi ingrossi prezzi parliamo di un prezzo quando la Bolsa parla parla di prezzi all'ingrosso non può parlare di prezzi no certamente la bottiglia la scaffale è abbastanza al mercato libero ecco bene volevo dire e chiudo il problema è stato lei l'ha accennato all'inizio e volevo fare un intervento su questo il problema è stato la comunità europea i piani olivicoli che in Italia non sono stati mai fatti perché l'agricoltura era accenerente oggi invece l'agricoltura è l'unico settore che occupa e quindi forse ce ne ricordiamo ma ci tassano continuamente la politica agricola è stata fatta in modo completamente errato cioè la nuova PAC ci ha distrutto e ci ha distrutto noi del sud e negli olivicoltori in particolare adesso abbiamo detto caro assessore gli ultimi 13 milioni che dovevano venire all'olio di qualità della Puglia anche quelli li abbiamo persi e quindi avremo alcune briciole ci hanno tagliato noi la Puglia dico la Puglia perde il 40-50% degli aiuti comunitari che arrivavano io non so come il nostro assessore il nostro ministro eccetera possono dormire tranquilli quando in Puglia mancheranno il 45% e se ne accorgeranno gli agricoltori con il prossimo pagamento questo è stato un danno veramente incredibile che abbiamo subito eppure quando la PAC è stata approvata c'è stato qualcuno che ha detto abbiamo mantenuto assolutamente chi l'ha detto se l'ha detto io lo dico faccio nome e cognome se l'ha detto la Coldiretti per esempio ha detto delle grandi bagianate perché i soloni che vivono a Roma nei palazzi e non si sporcono le scarpe hanno dato gli ordini alla Coldiretti della Puglia per esempio di stare zitti perché era Roma che decideva noi siamo imprenditori e ci sporchiamo le scarpe e paghiamo ogni settimana e ci siamo arrabbiati moltissimo con l'assessore abbiamo preparato documenti su documenti per far capire le difficoltà perché adesso non le sto a dire hanno sbagliato sulla regionalizzazione hanno sbagliato sull'imprenditore agricolo hanno sbagliato sui pascoli hanno sbagliato su tutto e questo vorrebbe dire in futuro non oggi che vendiamo le olive a 90 100 euro eccetera vuol dire una ricaduta sulla occupazione e io rimarco questo dato perché io sono contento quando posso occupare la gente e questa gente possa vivere bene chiudendo il cerchio della filiera delle nostre imprese e sì perché poi se la gente non lavora difficilmente avrà i soldi per acquistare quello che produce e noi viviamo ancora di agricoltura e viviamo di agricoltura a questo proposito vorrei ritornare perché da casa probabilmente ci ascolteranno tanti altri produttori e altri addetti ai lavori ma indubbiamente ci ascoltano soprattutto i consumatori che in questi giorni ascoltando quel che si sente dire o che si legge sulla stampa e sono preoccupati perché pensano di dover andare ad acquistare l'olio e di trovare il doppio del prezzo che pagavano fino allo scorso anno qual è la situazione chiedo a voi che siete un po' i terminali della filiera cominciamo da Franco Guglielmo è chiaro che naturalmente voglio dire con l'aumento del prezzo dell'olio all'ingrosso sei costretto in qualche modo voglio dire ad aumentare il prezzo di riferimento al consumatore e noi tutti quanti ci stiamo facendo questa riflessione è chiaro che non possiamo passare da una lattina che si vendeva fino a 10 giorni fa 20 giorni fa a 22 23 euro i 5 litri 24 euro passare a 50 euro a 40 euro assolutamente no come pure si è sentito come pure si è sentito sicuramente sicuramente questo voglio dire è successo e potrebbe succedere ancora noi che stiamo lo dico per me ma qui abbiamo anche altri colleghi che sono orientati proprio e proiettati al consumatore finale ci stiamo lottando da tempo è chiaro che tu la riflessione la devi fare e noi cercheremo mediamente almeno parlo per me di mettere una lattina di olio nuovo intorno alle 35 36 euro la lattina da 5 ma proprio perché voglio dire bisogna tener conto bisogna tener conto di una serie di fattori e intanto voglio sottolineare questo effettivamente noi ed ecco che ritorniamo alla perdita di occasione del momento possiamo possiamo diciamo questo aumento in questa maniera e senza poterlo controllare senza poterlo discutere tra di noi provocherà naturalmente che i farabotti coloro che vendono l'olio diciamo commerciale in quanto tale avranno la possibilità di riguadagnare ancora di più facendo i famosi voglio dire blend ed ecco che noi io credo che tutti quanti siamo d'accordo che più o meno una lattina di olio nuovo però il consumatore lo deve anche capire perché sono aumentate i costi sono quelli e in qualche maniera devono anche loro condividere questo aumento di prodotti però le voglio dire questo voglio fare voglio dire il termometro della situazione ad oggi siccome ci sono stati gli aumenti gli aumenti e ognuno di noi ha portato degli aumenti devo dire con molta onestà e questo ne va dato atto al consumatore il consumatore sta apprezzando e quindi in qualche maniera sta condividendo questo aumento di prezzo non so fino a quando voglio dire ed ecco perché noi dobbiamo stare attenti a non alzarla tanto l'asticella perché dobbiamo capire il momento giustamente come diceva prima il conto il momento è quello che è però dobbiamo in qualche maniera contribuire a questo aumento e a portarli parallelamente il consumatore a far pagare l'olio in maniera in maniera diversa anche perché il consumatore poi riflette e dice ma quando ci sono queste situazioni straordinarie ci aumentate i prezzi ma poi non ritornano più no 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 se i prezzi diminuiscono noi dobbiamo essere voglio dire coscienti coscienti di ritornare al prezzo giusto di riferimento perché no voglio dire perché io non lo devo fare mi sembra mi sembra voglio raggiungere un giusto equilibrio tra quella che è la domanda dell'offerta capendo anche la situazione dei luoghi dove si opera perché certamente da noi che siamo abituati a comprare l'olio a un prezzo sicuramente più vantaggioso rispetto a un consumatore toscano umbro lombardo ecco ci sono delle differenzazioni che vanno comunque evidenziate ecco perché quando dicevo attenzione comunque dobbiamo trovare un equilibrio tra quelle che sono le necessità giusti legittime del produttore e quelle che sono le esigenze del consumatore proprio per evitare che si generi quella corsa inversa cioè che poi magari si punti su altri prodotti che non sono neanche di qualità no ma c'è un altro aspetto molto importante prego gli economisti lo stanno rimarcando da tempo anche nel sistema agroalimentare che pericolosamente diciamo addirittura arriva su questo problema qui abbiamo il problema della deflazione cioè un prodotto troppo costoso esatto il Conte Spagnoletti che vende il suo olio sugli scaffali ottimo eccellente certificato tracciato di massima qualità ha 5 euro e se lo porta 8 euro rischia di non venderlo quindi c'è un grosso problema nella parte sua nel rispetto dei contratti con la grande distribuzione a fronte di un mercato che è in fortissima crescita ma il grosso rischio reale è quello che la massaia andando a fare la spesa non acquisti più l'olio extravergine e si orienti su altri prodotti che possono essere alternativi quindi l'effetto deflattivo è importante in questo momento però un attimo aveva chiesto scusami vero è comunque che molto è servito il bombardamento mediatico che c'è stato a livello nazionale sui TG nelle trasmissioni settoriali e non solo legate a questa crisi di produzione all'abbassamento di qualità medio motivo per il quale abbiamo visto ironia della sorte con l'aumento delle quotazioni medie concordo con le quotazioni del del presidente dei tre campanili invece un maggior interesse da parte di quello che è il cliente in questo periodo c'è il cliente famiglia che io chiamo che è spesso di origine meridionale trapiantato al nord quindi questo è il più o meno il profilo medio che si fa la scorta annuale o semestrale e le posso far presente che sebbene logicamente gli abbiamo chiesto nuove quotazioni ben più alte delle precedenti quasi questo bombardamento mediatico ha creato quella situazione di panico che è tipo il panico prima di una guerra il pre bellico che insomma si va al supermercato e si fa incetta di prodotti di prima necessità perché poi arriva la guerra bisogna però Elia voglio posso se hai concreto io voglio dire questo ecco perché il momento era propizio nel senso che è un momento delicato noi abbiamo sempre lottato noi che facciamo noi che siamo produttori di qualità siamo stati sempre contrari a una politica della grande distribuzione e questo credo che sia il momento di cercare di approcciare il discorso con la grande distribuzione in maniera diversa proprio perché l'olio ce l'avevamo solo noi ce l'abbiamo solo noi perché la grande distribuzione il suo problema della grande distribuzione è il prezzo noi sappiamo che l'olio è un prodotto che nella grande distribuzione va solo ed esclusivamente a promozione oggi è scandalo un attimo solo noi quello che noi dobbiamo cercare di dire in questo momento è quello che noi stiamo già dicendo da un po' di tempo che ci sono oli e oli oli di qualità oli medi oli diversi è chiaro che la grande distribuzione quando si siede a tavola con una al contratto con una commerciale lavora solo ed esclusivamente con le promozioni e ha determinato un abbassamento di qualità di qualità e di prezzo in tutti questi anni e oggi per noi diventa uno scandalo vendere l'olio a 35 anni non è così noi dobbiamo avere dobbiamo capire che il momento sta cambiando proprio perché anche in Italia stesso e nel mondo c'è un approccio completamente diverso sull'extravergine di qualità e quindi noi dobbiamo puntare su questa direzione dobbiamo continuare a puntare su questa direzione e quindi è importante che noi dobbiamo dobbiamo iniziare ad alzarla l'asticina e anche a confrontarci con la grande distribuzione a dire signori cari che l'olio non è un prodotto che bisogna venderlo solo ed esclusivamente a promozioni è chiaro quindi dobbiamo iniziare a cambiare la rotta ci sono le realtà dove anche la grande distribuzione vende oli di qualità distinti ho capito è chiaro che poi bisogna vedere chi è la grande distribuzione perché magari vuole utilizzare quel tipo di logiche i grandi marchi oggi i grandi marchi ti dicono che oggi l'olio italiano non lo vogliono vendere no no è vero è perché ci sono delle strategie dietro che chiaramente tendono ad approfittare di queste logiche perché se no io dico sempre è giusto ed è quello che stiamo cercando di fare valorizzare le qualità degli oli l'associazione per dire della città dell'olio punta proprio a dare un valore aggiunto a quelle che sono le identità territoriali ed è quello che il lavoro che stiamo cercando di fare stiamo svolgendo in questi anni anche come amministrazione cioè puntare sugli slogan che possano portare a far capire che è l'olio di Andria per dire che fino a qualche anno fa era detto che era un ottimo olio da taglio ma poi non era buono per il consumo allora ho sempre detto se è un ottimo olio da taglio può essere un ottimo olio da consumo e abbiamo avuto le riprove perché nel campo vitivinicoli io ho sempre degli esempi diciamo eclatanti il primitivo di Manduria che è stato fino a 30 anni fa un diciamo il vino che veniva utilizzato dalle grandi aziende per fare degli ottimi vini imbottigliati con il nostro vino e allora io ho sempre detto se è buono per fare un ottimo olio imbottigliato per conto di altri perché non deve essere buono se lo facciamo noi direttamente ma con la certezza di una qualità garantita e con la originalità che solo quella qualità può esprimere noi stiamo cercando di far cambiare questo approccio e cioè sviluppare il concetto dell'informazione della divulgazione e dell'approfondimento delle conoscenze qualitative che portano a distinguere olio perché l'identità diventa importante per far capire al consumatore che se si deve approcciare una bottiglia di olio di un'azienda che produce in bottiglia olio di corati deve sapere che quell'olio ha quella specifica diciamo connotazione sensoriale organolettica chimica è l'identità che ti dà la certezza di un prodotto originale e come tale va pagato diciamo al giusto prezzo perché l'ho detto prima noi non dobbiamo mettere in campo adesso la corsa alla speculazione perché in questo momento dobbiamo essere bravi questo lo dico ai produttori a saper trovare un equilibrio che possa garantire il ritorno economico per il produttore ed è giusto ma anche la garanzia per i consumatori di avere un prezzo con un diciamo un giusto equilibrio che non porti praticamente poi a far scappare il consumatore il problema lo diceva prima anche Donato Rossi è che poi la massaia va al supermercato e prende l'olio da 3 euro 3 euro e 20 perché poi bisogna fare i conti in casa e non si può certamente pensare che tutte le famiglie possano comprare l'olio a 8 euro le do questo compito in grato potremmo perdere delle fasce di di clientela meno abbiente che sicuramente potrebbe addirittura sostituire anche il tipo di grasso magari tornando al burro alle margarine o quelli che erano i prodotti ma anche l'olio di semi voglio dire ha la sua bella quotazione quindi potenzialmente potrebbe anche esserci diciamo un ritorno a delle origini che oramai grassi che poi effettivamente fanno male alla salute allora lì mi ricollego alla sua provocazione iniziale quando parlava di rischio della salute per i consumatori certo non consumare olio extravergine potrebbe fare male e potremmo perdere alla salute e potremmo perdere anche tutta quella lei è bravo anche nel marco che parliamo di potremmo far potremmo farci un autogol per tutto il lavoro invece mediatico fatto le ricerche mediche fatte su tutti i benefici che l'olio extravergine di oliva la dieta mediterranea è quella che prego vuole aggiungere qualcosa la dieta mediterranea è stata inventata da un americano scoperta riscoperta riscoperta perché stavamo andando al burro e poi invece hanno capito perché l'americani avevano capito che l'obesità era un grosso problema ma volevo ritornare a Monte se noi qui ad Andria io nel 94 ci avevo tentato perché il prodotto di Andria è unico e bastava ammassarlo in quel momento fare quello che hanno fatto il parmigiano reggiano con le banche dietro eccetera non vendere il prodotto anche perché nel mondo globalizzato nel mondo o abbiamo massa critica non conta niente spagnoletti rossi bianchi verdi sono troppo piccoli per il mondo oggi allora se fai un contratto con la Cina a parte che nei supermercati dobbiamo vendere perché se non vendiamo nei supermercati si vende l'80 al 70% del prodotto quindi ma avendo una forza contrattuale non dello spagnolettino ma di forza contrattuale seria con un prodotto unico che era quello di Andria che poteva equivalere al parmigiano reggiano con le banche dietro che anticipavano con dei posti di stoccaggio è una massa critica vera avremmo veramente risolto tutti i nostri problemi non avremmo avuto bisogno di nessuno questo è stato il grande errore questo è un sogno o è una cosa che io era un sogno che si era provato a fare mi ricordo già negli anni 90 92 93 ma che poi per via della poi lo sappiamo l'hanno detto abbiamo una parcializzazione tremenda della nostra olivicoltura e il produttore che vuole incassare subito i soldini e quindi non andiamo da nessuna parte ma è vero che c'è il pericolo che è arrivati a giugno non mi ricordo non mi ricordo che prima diceva che siamo quasi alla vigilia di una guerra quindi bisogna accaparrare il prodotto no il pericolo di guerra nel mondo non esageriamo come sensazione la sensazione è quella proprio per il calo della produzione ma si arriva a giugno e poi finisce l'olio che nel mondo voglio dire non arriveremo voglio dire alla congiuntura con un po' con la nuova campagna con la nuova campagna però questo voglio dire andiamoci cauti senza parlare di guerra evitiamo evitiamo grazie al sistema che ci hai ricordato prima probabilmente le quantità sono sufficienti però io voglio voglio dire ce lo fate dire a noi che siamo più giovani rispetto al Conte noi vogliamo ancora sognare Conte quindi e quindi cioè nel senso però quell'idea voglio dire quell'idea noi in qualche maniera io rappresento una cooperativa rappresento anche un'associazione di produttori l'obiettivo quello era quello è e quello sarà perché solo ed esclusivamente come diceva il Conte quella è la strada la strada per cercare di dare valorizzazione al prodotto e anche il giusto tornare stabilità al sistema non ne puoi fare a meno insomma Assessore ma quest'anno Coco noi stiamo puntando la vedo la faccia non è proprio non è quella quando noi facciamo questa trasmissione ogni anno ogni anno solitamente mi si illumina no le dico con molta sincerità noi diciamo abbiamo sempre e stiamo abbiamo fatto di questo evento sempre il nostro punto di forza promozionare e abbiamo cercato negli ultimi anni di dare proprio più come dire fare più riferimento sull'olio perché riteniamo che è l'attore principale di tutta la manifestazione quest'anno chiaramente ci siamo orientati a vedere di poterci agganciare a quella che è la nuova possibilità data da Expo 2015 che ha come tema fondamentale la nutrizione e l'alimentazione e quindi stiamo sviluppando questo progetto che ci porta praticamente ad andare verso Expo per connotarla proprio sotto questo profilo profilo alimentare salutistico diventa una vetrina internazionale e quindi stiamo cercando di sviluppare questo progetto con le devo dire con molta franchezza con quelle che sono le restrizioni anche di tipo perché la nostra amministrazione ha messo in campo negli ultimi tre anni strategie di ridimensionamento dei costi di gestione ma in generale di investimento perché la politica che abbiamo voluto adottare è stata quella di non andare ad inasprire la pressione tributaria a livello locale rispetto ai mancati trasferimenti da parte dello Stato perché negli ultimi tre anni abbiamo avuto una riduzione di trasferimenti per oltre 11 milioni di euro quindi noi siamo costretti a riequilibrare tutto il bilancio e quindi questo ci porta anche a ridimensionare quelli che sono i budget a disposizione però nonostante tutto stiamo cercando proprio di sviluppare questo con quelle che sono le disponibilità di ottenere il massimo col minimo diciamo noi e quindi stiamo lavorando proprio in prospettiva di Expo e quindi di anticipare questa fase ai primi dell'anno per poter ricollegarci a questo scosso e devo dire stiamo lavorando per fare un'altra un'altra operazione che ritenevo giusta ed è giusto che si faccia che di programmare uno spot proprio sull'olio di Andri a livello nazionale quindi c'è un impegno anche purtroppo economico che devo affrontare per questa per questa mission sì Assessore ma è importantissimo dato che il vino è presente all'Expo che l'olio sia altrettanto presente all'Expo si parla del mangiare avremo a disposizione questo spazio da parte della regione basilare che Andri che Andri o che perlomeno il consorzio dopo con i Galli eccetera il nostro consorzio dopo sia presente Expo e stiamo cercando di creare questo gancio in prospettiva dell'Expo 2021 siamo arrivati praticamente in chiusura di questo spazio e vorrei lasciare un minuto ciascuno ai nostri ospiti per dire quello che non abbiamo detto finora cosa è stato o cosa possiamo dire Franco Guglielmo cosa possiamo dire che noi continueremo a lavorare voglio dire a cercare di onorare soprattutto i nostri produttori e a dare diciamo maggior sicurezza al consumatore andando diciamo nelle strutture come quelle mie noi possiamo garantire la qualità del prodotto a un giusto prezzo ecco non ci facciamo prendere dal momento però questo lo possiamo dire ad alta voce Donato Rossi ma due concetti molto semplici da produttore e da uomo di organizzazione i controlli i controlli mai massimamente come in questa annata devono essere attenti certosini e se vogliamo anche capziosi però non i controlli fatti ai soliti noti a me capita spesse volte di andare in un frantone di un mio carissimo amico dove ogni volta che ci vado a distanza di una settimana trovo o la repressione frodi o trovo o trovo la guardia forestale o trovo i NAS e tutto il resto quindi questo susseguirsi deve essere simpatico questo suo amico ma sì questo amico mi è molto caro mi è molto simpatico però il poverino è vessato da questi chissà perché è molto in vista anche la recuperativa ma è giusto che i controlli ci siano però io quello che voglio dire è probabilmente nei controlli e nelle operazioni di controllo ci deve essere un coordinamento un po' diverso io sto pregando sto esortando da tempo i controlli sui porti e sugli scaffali sono due passaggi molto importanti e fondamentali controlli fatti bene a campione e tutto questo quindi avevo e concludo pregato avevo cercato di trovare un appoggio politico che mi potesse dare supporto a questa mia idea di canalizzare tutto il traffico dell'olio su un porto solamente questo dava un monitoraggio più attento e preciso questo lo si è ottenuto con le derrate alimentari provenienti dal Macreb il porto di Brindisi ha funzionato bene i controlli vengono fatti credo che sull'olio si possa fare la stessa cosa quindi auspico questo ed è una buona notizia Elia Pellegrino io invece noto che poco si è detto ma qualcosa si è fatto in termini di sicurezza e la sicurezza qui abbiamo una duplice sicurezza una sicurezza alimentare legata a quello che è la problematica di sofisticazioni truffe e quant'altro molto c'è da monitorare una produzione del biologico che per un'annata agronomica particolarmente problematica specie nel settore viticolo ci sono problemi di derive di pesticidi sulle olive e quindi vado ad esortare le autorità competenti a monitorare le produzioni di biologico al fine di garantire che il vero produttore dell'olio biologico che non ha trattato non subisca un danno da una concorrenza sleale all'interno della zona stessa con produttori che invece vendono documentazione di biologico ed è un grosso problema tanto sta prendendo ci arriverà infatti voglio dire un assist che do ecco assolutamente e un secondo problema un problema e quindi qui c'è un problema di sicurezza alimentare ma un problema altrettanto importante è di sicurezza nei campi e nelle aziende si è assistito a una grande quantità di furti di olive nei campi i nostri agricoltori dormono nella macchina in campagna perché da settimane ormai i consorsi di vigilanza fanno quello che possono i consorsi delle guardie campestre fanno altrettanto quello che possono il territorio è molto ampio effettivamente è difficile da controllare le forze dell'ordine tutte sono impegnate anzi faccio un plauso alle forze dell'ordine locale perché ci hanno dato l'opportunità della scorta delle autobotti che escono dalle nostre aziende e che considerato il valore valgono all'incirca quanto un appartamento quando si muove un autobotto è come se si muove lo stesso importo del valore di un appartamento abbiamo bisogno che specie che da aziende che non sono nel centro abitato vengano prelevate addirittura dalle forze dell'ordine e qui i carabinieri la polizia ha messo in campo diverse unità di uomini e di pattuglie giornalmente disponibile per fare questo genere di presidio del territorio scorta armata delle autobotti fino ai punti di snodo per i quali poi altri organi ispettivi altri organi di polizia prendono in carico la relativa autobotta però il problema c'è il problema è serio c'è tanta gente che è per problemi di mancanza di lavoro un po' alla canna del gas come si usa dire anche se il termine è molto molto brutto anche perché il gas adesso costa costa anche il gas e quindi è facile andare incontro ad un produttore agricolo inerme che è in campagna magari con la sua moglie anziana con il cagnolino a fare la guardia al carrettino appendice dietro alla macchina e si presenta gente talvolta neanche in uno stato psicofisico particolarmente controllabile o con un coltellino un'arma o che sia e gli portano via il frutto di un anno e magari prendono anche bastonate e c'è un rischio molto molto grosso grazie per questo contributo ricollegandomi ma devo dire un'altra cosa più importante per me ricollegandomi al problema non dobbiamo ricordarci del controllo del territorio solo in questo momento cari amici e colleghi dobbiamo ricordarci tutto l'anno quindi se noi vogliamo abbiamo un consorzio e a parte le interforze dobbiamo pagare il consorzio perché tutto l'anno il territorio deve essere presidiato se no se non c'è la sicurezza non si viene nemmeno a investire in campagna nelle aziende questo è basilare ce ne dimentichiamo e ce ne ricordiamo quando le olive stanno a questi prezzi ma io la mia conclusione era perché mi ricollego va tutto benissimo quello che loro hanno detto sono perfettamente d'accordo la cosa che invece mi rivolgo è al mondo politico il mondo politico è completamente ancora assente dall'agricoltura l'agricoltura era un settore primario ce ne ricordiamo solo quando dobbiamo continuare a pagare pare che ieri ci hanno messo un'altra gabbella sul limo su tutti i terreni agricoli quindi sul lavoro sulla terra che rappresenta il lavoro che rappresenta la catena di montaggio e questo sarebbe un altro perché il governo ha sempre bisogno di soldi noi occupiamo a differenza degli altri settori siamo l'unico con trend in salita però non ci si ricorda dell'agricoltura e anche i nostri politici locali tutti quanti sotto il suo profilo hanno fallito mi ricollego alla Mongello che è sempre stata molto brava e attiva nel campo del nostro sud per esempio adesso l'ultima sua conclusione è stata quella sul tappo anti-rabbocco ecco il tappo anti-rabbocco benissimo perché i ristoratori facevano questa storia di riempire ho visto un ristoratore che dopo anni aveva sempre la mia bottiglia di vino di olio e quando poi andavo in azienda dire ma quello ordina quello non ordinava mai il problema però non è solo ed è giusto il tappo anti-rabbocco il problema amici miei sappiatelo è quello delle vetrerie e dei tappi perché questo questo costo qui sarà un altro euro a bottiglia a chi va trasferito quest'altro costo e allora ho qui perché io ho parlato con le vetrerie si dice benissimo la bottiglia è pronta eccetera però ci vorrà un altro euro a chi trasferiamo questi costi che già come abbiamo fatto tutti i discorsi sono perché è legge sapete è legge e tra 15 giorni dovremo adeguarci a questo nuovo sistema quindi è sempre queste cose fatte di corsa che non so come si arriva e non so dove si va a parare e a finire grazie la parte politica ha fallito forse era quella un po' più alta di noi no 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 per carità no 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 allora ci siamo capiti a livello amministratori a livello nazionale a livello nazionale in cui non si parla mai di ritora e l'abbiamo visto nella PAC che non ho visto intervenire seriamente fortemente i nostri uomini del sud che non hanno difeso la nostra noi abbiamo cercato nel nostro piccolo il Conte Spagnoletti ne è consapevo ma anche gli altri amici come no che abbiamo cercato come dire di attivarci e di dare anche come dire alzare la nostra voce verso gli organi competenti a livello regionale ma soprattutto nazionale perché il vero problema è proprio quella che è stata la scarsa determinazione a livello nazionale di una presa di posizione a livello comunitario che andava preso ma abbiamo avuto anche questa è la verità il problema dell'Italia è aver avuto negli ultimi 4 anni diciamo ogni anno un ministro uno diverso dall'altro e che ministri tra l'altro quindi quando non abbiamo gente competente questo è il vero problema quando non c'è gente competente che prende a cuore un tema importante come quello dell'agricoltura ma un tema importante come quello dell'olivicoltura italiana che comunque diciamo è tra i primi paesi produttori anche se devo dire siamo purtroppo il paese che consuma tantissimo olio e quello che produciamo non riusciamo neanche diciamo a poter garantire l'autoconsumo e quindi siamo costretti ad importare milioni di quintali di olio dalla Spagna dalla Tunisia dal Portogallo dalla Grecia dal Cile per questo sono dati che abbiamo desulti dai dati AGEA dall'Australia adesso fra poco quindi è chiaro che abbiamo questo problema io diciamo per quello che possono essere le competenze di amministratori locali anche sul tema dell'Uino abbiamo cercato di convenire con i vari sindaci del territorio non solo della provincia Barletta Andiatrani ma anche del Barese di condividere un documento che abbiamo sottoscritto abbiamo inoltrato al Ministero abbiamo cercato di sensibilizzare la parte politica al Governo di recepire quelle che sono delle situazioni a livello locale che non sono assolutamente accettabili perché come dire inveire contro l'agricoltura significa mettere in crisi un sistema che oggi è quello che riesce a garantire ancora un minimo di reddito ma soprattutto un minimo occupazionale che è l'elemento fondamentale che sta caratterizzando in questo periodo il sistema socio-economico a livello locale regionale e nazionale io diciamo per quello che possono essere le determinazioni da parte nostra è quella proprio di puntare ad evidenziare e a caratterizzare sempre di più quell'azione di valorizzazione che possiamo fare a livello locale per far capire alla gente che quando bisogna approcciarsi a comprare un prodotto come l'olio che è fondamentale nella dieta ma è fondamentale per la salute io ho sempre detto attenzione è molto importante prestare attenzione all'olio ma soprattutto non solo al prezzo ma guardare quello che c'è scritto finalmente c'è questo nuovo recepimento che bisogna adesso evidenziare il fatto che se si tratta di un olio comunitario in maniera più evidente rispetto a quelle micro scritture che hanno sempre adoperato io ho sempre presente il caso di una grossa azienda confezionatrice italiana che ha messo in commercio un olio granfruttato quest'olio è il frutto di olive che sono state raccolte in anticipo che hanno un'quantità di polifenoli maggiori poi magari a vedere dietro e trovi magari miscili di olio comunitari e quindi di polifenoli magari si troviamo qualcosa ma non quelli che possono trovare in una bottiglia confezionata da produttori locali che danno una connotazione identitaria vera e soprattutto una specificità io dico è importante tener conto del prezzo e della qualità soprattutto quando interessa la salute anche perché è un prodotto che mangiamo anche perché abbiamo scoperto che il 30% dei casi di tumori che purtroppo interessano la nostra società sono determinate anche dall'alimentazione questo è un dato molto importante a lei il compito di concludere questa trasmissione ma sicuramente ha preso nota di tutti gli spunti che sono arrivati e che vi coinvolgono direttamente io mi ricollego tutti gli assist che mi sono stati forniti assolutamente però innanzitutto volevo puntualizzare una cosa il controllo di tutto il territorio è garantito perché noi abbiamo dei protocolli di intesa con le capigine di riporto e con le dogani quindi qualsiasi merce che proviene dagli stati membri dell'Unione Europea faccio riferimento alla Spagna o da stati esteri da paesi terzi tipo Tunisia o altri paesi ancora i portatori nei nostri guardi di olio sono tutti a nostra conoscenza quindi possiamo intervenire ma non parlo di olio parlo di tutte le errate alimentari per questi protocolli di intesa e poi niente i controlli anche per rispondere all'amico del presidente che viene sovente visitato c'è bisogno di un coordinamento interforza e questo ovviamente verrà portato per evitare che un soggetto venga controllato più volte esatto da diversi organi di controllo ma questo è già voglio dire all'attenzione sì sì esatto per l'appunto quindi possiamo garantire ma possiamo tranquillizzare soprattutto i consumatori che il prodotto di questa terra è davvero un prodotto che merita di essere consumato assolutamente sì assolutamente sì non posso assolutamente dire il contrario è proprio così è proprio così l'etichetta sì il consumatore deve sforzarsi pure lui è ovvio che il legislatore ha fornito strumenti anche lui però lui deve fare attenzione soprattutto di leggere l'etichetta adesso ci dà l'opportunità col nuovo regolamento comunitario del campo visivo che venga evidenziato quando viene prodotti da altri paesi la miscela di olio di oliva d'origine comunica e allora come vedete avremmo potuto continuare questa trasmissione ancora per qualche ora perché ci sarebbero anche tante altre cose da dire naturalmente lo faremo con altri approfondimenti sull'argomento che sta a cuore non soltanto ai produttori ma anche ai consumatori che amano apprezzano questo prodotto della nostra terra e che lo consumano quotidianamente io ringrazio davvero di cuore Franco Guglielmi presidente dei tre campanili di Andria e presidente dell'associazione Assoproli provinciali di Bari e Bat credo che sia un'unica associazione grazie per essere stato con noi anche Donato Rossi presidente della federazione olivicola nazionale aderente alla confagricoltura grazie ad Elia Pellegrino vice presidente nazionale dell'associazione dei frantoiani AIFO grazie per essere stato con noi ringraziamo il conte Onofrio Spagnoletti Zeuli imprenditore agricolo della nostra terra ringrazio per l'opportunità che sono molto importanti grazie anche a Benedetto Miscioscia vice presidente nazionale delle città dell'olio nonché assessore alle attività produttive del comune di Andria e infine ringraziamo di cuore anche Roberto Altini dell'ispettorato centrale della qualità e della repressione delle frodi nel settore agroalimentare grazie a voi grazie per essere stato con noi l'appuntamento per tutti e la prossima settimana stessa ora stessa rete grazie buonasera